La proposta che il Ministro ha fatto è che un miliardo e due di questi 5 miliardi riguarda il nodo di Pesero, quindi siamo in attesa che il Ministro firmi ufficialmente la lettera di ristribuzione delle risorse, stiamo lavorando per recuperare il nodo di Fano, perché dal nostro punto di vista agganciare anche Fano significa fare una scelta strategica per la seconda e la terza città delle Marche, solo che ci vogliono 500-600 milioni in più e appena possibile ufficializzeremo questa cosa. Proprio ieri il Ministro Giovannini mi ha confermato che verrà a Pesero il primo di luglio per il Cataraduno, che quest'anno si svolgerà a Pesero e quindi credo che in quell'occasione faremo un'iniziativa pubblica, istituzionale, dove spiegheremo tutto il progetto e quindi in qualche modo festeggeremo anche un investimento storico per la nostra città, perché 1200 milioni di euro sono una cosa mai vista a Pesero, forse neanche quando si è fatta l'autostrada. Un investimento di lungo e medio termine, ma che cambia completamente la città. Immaginatevi la città non più separata dalla ferrovia, immaginatevi Pantano attraversabile, Tombaccia, Santa Maria delle Fabrici attraversabile, il centro attraversabile e il lungomare senza ferrovia, il lungomare sotto l'ardizio diventa uno dei lungomari più belli d'Italia. Quindi ci ho lavorato tanto, ci siamo, perché il Ministro ha sostanzialmente già dato il suo indirizzo, si tratta di capire se nei prossimi giorni riusciamo a rafforzare il nodo di Pesero anche con la parte di Fano. Stiamo lavorando molto su questo e se ce la faremo avremo fatto davvero una cosa completa.